ciao a tutti e special modo a the old blood io sono gottardi roberto chitarrista e fondatore di runway totem assieme nel lontano 1988 all'allora altro chitarrista rené modena ne sono passati di anni e da allora fino adesso noi abbiamo lavorato nel mondo della musica cercando di creare quello che per noi era la musica runway totem runway totem è un elemento sceso da sceso da diciamo che i componenti di questo combo possiamo chiamarlo anche così di quei di questo rano i totem sono elementi che discendono da e arrivano a in questo modo questi elementi vari fanno parte poi di altre persone che sono praticamente i musicisti musicisti che compongono questo runway totem rano i totem praticamente è formato da elementi che non sono di questa terra ma sono elementi che discendono come si può ben capire da altri dimensioni da altre realtà difatti non a caso il nostro ultimo lavoro del 2019 si chiama multiversal mater c'è la materia multiversale ma con quello ci arriveremo con un attimo di calma questo cosa vuol dire vuol dire che ogni elemento che fa parte di rano ai totem nel momento in cui finisce di avere il suo scopo in rano ai totem torna da dove è venuto questo tornare da dove è venuto comporta nello stesso momento che il musicista che ne fa parte va da sé che lascia il gruppo questo perché perché è tutto un susseguirsi di elementi che ogni progetto di rano ai totem porta ad avere nuova linfa diciamo che io che sono oltre che come ho detto roberto gottardi l'elemento che io ho impersonato e che fa parte di me e che rimane in me si chiama calde betel calde betel non è altro che la la prosecuzione di rano ai totem praticamente calde betel è l'elemento cardine su cui tutto il progetto rano ai totem verte sembra una cosa un po strana ma non lo è per chi segue anche certe lettura e questo può essere qualcosa di nuovo vi da nuova linfa allora noi come dicevo siamo nati nel 1988 noi come musicisti rano ai totem esiste da sempre e per sempre esisterà questo non vuol dire che una volta che calde betel non sarà più all'interno di rano ai totem rano ai totem tornerà da dove è venuto per poi ridiscendere in epoche diverse e sotto altre forme artistiche questo per dare un esempio allora il simbolo di rano ai totem è un simbolo antichissimo che lo sapete che lo potete vedere qua lo potete notare qua dietro di me sul sullo sfondo del video questo porta ad avere e sempre degli ideali cercando di non diciamo di non avere avere di non avere ecco meglio così di non avere l'elemento che sovravvanzi all'uomo l'uomo e l'elemento vanno di pari passo quando l'elemento come dicevo non c'è più anche l'uomo musicista strumentista cantante non ha più il compito che deve avere in rano ai totem a prescindere questo il nostro primo lavoro si chiama trimegisto questo lavoro e qua vi faccio vedere la copertina è stato edito da black widow come potete vedere è un vinile con copertina in tre parti più il booklet all'interno questo ormai è diventata storia è stato anche fatto e stampato il cd con copertina diversa trimegisto questo nel 1993 questo nostro primo lavoro dopodiché noi abbiamo continuato a lavorare abbiamo continuato a lavorare per portare rano ai totem alla ribalta diciamo che questo lavoro il primo è stato molto apprezzato dalla critica è un lavoro molto anche difficile perché abbiamo cercato di mettere assieme quello che è musica d'avanguardia con un cantato hardcore difficile da mettere assieme però sembrerebbe che ci siamo abbastanza riusciti a prescindere da questo non abbiamo solo lavorato a livello di studio ma abbiamo avuto anche tutta una serie di concerti di siamo stati ospiti a festival internazionali praticamente tutto l'iter che che uno può immaginarsi la cosa molto importante è che noi siamo un elemento siamo degli elementi però è un elemento noi siamo un elemento non è corretto però è per far capire che rano ai totem è un elemento che contiene molti elementi perciò è un elemento rano ai totem cui ha dato tutta una serie di idee tra cui il secondo nostro lavoro si chiama zed questa è la copertina del del vinile sempre a edito da da black widow perché con black widow abbiamo avuto e continuiamo ad avere un grande rapporto questo è il cd perché abbiamo sia la forma vinile che la forma cd poi come dicevo prima anche qua rano ai totem ha incominciato ad avere a pensare in modo diverso e abbiamo avuto un periodo che con black widow ci siamo un attimo non diciamo andati via e non diciamo che abbiamo avuto due strade due percorsi diversi che poi si sono rincontrati ad un certo punto per poter produrre cose nuove ognuno aveva bisogno di fare la propria esperienza anche perché tenete presente che il nostro primo lavoro è trimegisto del 1993 e stiamo parlando del numero 4 di catalogo di black widow il che questo vuol dire che erano gli albori e i primi loro lavori e noi il nostro primo lavoro ecco che questo si può dire underground cioè siamo sotterranei nati così però dall underground poi ci siamo evoluti siamo evoluti e abbiamo avuto tutta una serie di di contratti di di contatti con tutta una serie di case discografiche che chiaramente ti portano a non essere più underground il che questo vuol dire che si nasce come underground ma non si deve rimanere nell underground si deve poter crescere rimanere nell underground va bene come sotterraneo ma non come idea perché altrimenti non porti a nessuno nessun tipo di messaggio una cosa molto importante è che se tu non hai quando riesci ad avere una serie di diciamo di lavori e non hai un riscontro e il riscontro può economico può essere un riscontro di critica comunque diciamo tutte e due dovrebbero avere anche perché altrimenti come musicista non riusciresti a sopravvivere non sopravvivendo non puoi fare quello che sei deputato fare musica e questo ti impegna ti impegna parecchio cioè sicuramente nell underground è bene però fai un altro lavoro non fai musicista io nel bene o nel male faccio il musicista questo mi ha permesso di poter avere un riscontro un certo tipo di riscontro economico un certo tipo di scontro e di critica andando avanti questo ti porta alla possibilità di avere contatti con altre realtà allora una di queste realtà era musea francese con musea francese abbiamo fatto il nostro primo lavoro che si chiama andromeda dopo andromeda noi sempre per musea abbiamo fatto tep zepi e qua incominciavamo già a crearci il nostro piccolo studio siamo già agli inizi degli anni 2000 qua siamo 99 e qua con andromeda e qua incominciamo a mettere le basi per quello che sarà poi il nostro quello che state vedendo qua dietro le mie spalle il nostro studio lo studio rano e totem record anzi a dire vero totem record studio poi siamo andati avanti sempre per musea abbiamo fatto anche questo lavoro che si chiama pleroma o pleroma questi tre lavori assieme uno due e tre fanno parte li vedete ecco qua un due tre fanno parte di una trilogia questa trilogia si chiama cicli cosmici questi sono i primi tre lavori di una trilogia che si chiama cicli cosmici poi subito dopo abbiamo pensato di fare una nostra etichetta e poter ampliare il nostro studio con questo abbiamo incominciato il lavoro di un'altra trilogia questa trilogia l'abbiamo potuta fare anche perché come dicevo avevamo la possibilità di uno studio perciò i tempi li sceglievamo noi e avevamo la possibilità di registrare direttamente qua nel nostro studio il tutto in questo periodo la casa discografica che ci ha supportato non era più la musea ma abbiamo lavorato con lizard e abbiamo fatto il nostro primo lavoro di questa trilogia che quattro elementi cinque quattro elementi cinque il primo lavoro è esame rom che è questo il secondo lavoro è manu menes che è questo il terzo lavoro è l'erroi du monde che è questo questi tre hanno praticamente lavori questi tre sono la seconda trilogia e questa è la trilogia dei quattro elementi cinque come potete notare noi a un certo punto abbiamo lavorato con album concettuali molto spessi avendo sempre la la possibilità di esprimere la nostra arte come dicevo abbiamo avuto anche dei grandi bei riconoscimenti anche come un album come questo fra i migliori album del 2007 fa bene ogni tanto ricordarle queste cose poi abbiamo incominciato a ad avere una serie di di lavori e di concerti molto importanti dove abbiamo incontrato tutta una serie di musicisti di altissimo livello che ci hanno ulteriormente portato a una crescita rano i totem musicalmente continua a crescere a una cosa importante in tutti questi lavori siamo partiti da un gruppo di persone e arrivando a questo gruppo a questo lavoro il gruppo è totalmente diverso addirittura qua ci sono due gruppi un gruppo chiaramente rano i totem vi faccio vedere un gruppo è rano i totem questo è l'interno e il gruppo rano i totem contiene chiaramente calde bettel un batterista un cantante un tastierista una cantante e poi il modern totem ensemble il modern totem ensemble è tutta una serie di musicisti che vanno dai violinisti a violoncellisti a contrabassisti a flauto oboe, trombe, trombone, vibrafoni, poi c'è un poeta poi ci sono dei di tutta una serie di di appunto di musicisti che fanno in questo caso il modern totem ensemble che è come dire rano i totem il sole e attorno gli gira un pianeta ma ogni lavoro può avere un nuovo può scendere una nuova entità in questo caso era il modern totem ensemble che assieme all'interno di rano i totem ha costruito questo lavoro avanti siamo andati ancora con questo lavoro che è affreschi e meditazione affreschi e meditazione è stato un periodo in cui si era molto sul concetto orientale perciò anche qua si sono adoperati strumenti particolari si è lavorato con musicisti che sapevano come rendere questo tipo di di sonorità addirittura addirittura un pezzo di questo che si chiama pezzo si chiama tat l'albero cosmico è praticamente il testo della Bavagat Gita tredicesimo capitolo una parte del tredicesimo capitolo della Bavagat Gita questo per dire come si spazia e come rano i totem da e detta le linee guida poi è stato il momento di fare questo lavoro ai cancelli dell'ombra i cancelli dell'ombra è un concerto avvenuto a Genova nel lontano 1994 in ottobre e qua è stato portato su cd nel 2010 questo per poter dare idea di che cos'era rano i totem dagli albori a quel momento che si era fatto questo tipo di di percorso musicale andando avanti si è fatto questo che si chiama questo qua viaggio magico è un live che è stato registrato nel 2013 assieme a all'universal tolter molcast in un concerto avvenuto in ai primi di maggio del 2013 dove noi rano i totem lo abbiamo registrato e portato sulle stampe è un doppio cd anche questo è per lizard è un doppio cd di cui ci sono un sacco di pezzi inediti più qualche pezzo dei primi rano i totem e degli ultimi lavori poi poi abbiamo pensato che forse si poteva anche andare in una direzione che non era solo musicale ma una direzione anche di poesia sonora la differenza tra poesia sonora e canto è molto semplice mentre il canto è la voce che entra nella musica la poesia sonora è la musica che entra nella voce difficile facile è una cosa abbastanza che ci ha ci ha dato degli spunti interessanti noi abbiamo appunto vediamo qua il lavoro che è questo che non è un vinile come potete vedere sembra un vinile adesso vi faccio vedere è un cd è un cd e un dvd li vedete qua dentro un cd e un dvd del concerto diciamo dell'esperienza di poesia sonora fatta dal vivo di conseguenza di conseguenza questo lavoro è un lavoro che è stato portato in teatro fatto in una tournée italiana in vari teatri dell'Alta Italia registrato si facevano delle proiezioni e praticamente il testo del filosofo eros olivotto che non è nostro un bel testo molto molto pregno molto interessante poi ultimo e non ultimo questo lavoro che è il ritorno a black widow questo con questo lavoro siamo tornati con la casa discografica black widow questo si chiama multiversal matter con questo lavoro che è stato particolarissimo perché qua andiamo ad esplorare vedete la mia maglietta che è uguale simbolo maglietta ting allora tenete conto che questo lavoro esplora tutta una serie di diciamo di di sonorità elettroniche dove siamo in due dove io suono chitarra sintetizzatori suono il synth guitar strumenti che ho inventato come il synth glass e tutta una serie di cose per cui abbiamo fatto un lavoro di di elettronica su avendo in mente anche tutta una serie di di artisti che che ci hanno preceduto che hanno fatto questo tipo di di lavori non ultimi mi ricordo battiato per dire un italiano per poi parlare di tutto il crowd rock tedesco praticamente dai can ai tangerine dream ai crapper cioè praticamente è uno studio è un un entrare in profondità nel 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 sistema avanguardistico elettronico portando delle delle novità a livello tecnico e non solo adesso come adesso stiamo lavorando e sto anzi sto lavorando calde betel ad un progetto molto importante progetto importante che si chiama inter galatic totem orchestra come prima si parlava di rano i totem e di modern totem e di modern totem ensemble adesso è sceso il nuovo il nuovo elemento ed è e si chiama inter galatic totem orchestra in questo abbiamo abbiamo avuto avuto una fortuna incredibile perché io dico abbiamo perché dico rano i totem ma ho avuto anch'io come calde betel una fortuna pazzesca poter lavorare con dei musicisti che hanno fatto la storia della musica mondiale partendo da martin grice sassofonista flautista di delirium ma non solo pensate che negli anni sessanta suonava con con christian van der al seguito di patrick samson era oltretutto e un ha suonato con peter green flitwood mac cioè stiamo parlando di un musicista di livello spaventoso ma non solo lui parliamo di david jackson fondatore assieme a peter emil di van der graf generator questi fanno parte di di questo ma non solo nick tarner anche lui fondatore di oakwind assieme a dave brooke cioè mi sono trovato a lavorare con con questi elementi di di una di una levatura pazzesca e gli elementi italiani che fanno parte di questo di questo progetto sono soffia bacini alla voce grande soffia bacini poi un altro sassofonista molto bravo italiano andrea facchini e il batterista simone caruso cioè praticamente chiaramente io alla chitarra al basso e a tutto quello che riguarda sintetizzatori tastiere e voce ma non solo ma anche maurizio poli fondatore di man of lake praticamente è un un lavoro veramente speciale sta per essere ultimato e veramente mi sta dando tanta soddisfazione anche perché questi musicisti hanno avuto delle parole molto molto belle riguardanti le composizioni riguardanti all'intensità alla potenza che è stata è stata data a come abbiamo lavorato e questo ci porta di nuovo a capire quanto è importante poter andare sempre avanti cercare di salire quel gradino che serve per poter ambire ad avere queste possibilità cioè da underground un po' più a un po' in su questo ti dà la misura di quello che stai facendo non rinnegando l'underground attenzione è molto importante perché tutto parte dall'underground però la visione deve essere molto lineare io non parlo di mainstream perché non mi interessa io parlo di underground e il livello intermedio tra il mainstream e l'underground questo è quello che noi dobbiamo avere noi dobbiamo ambire a questo perché questo ti porta e ti dà la possibilità di emergere devi averlo ben presente nella mente altrimenti non se ne viene fuori si rimane sempre sotto e non si riesce ad avere continuità allora io sono molto felice di aver partecipato qua a The All Blood con l'amico Montagna Cristian mi ha chiesto di fare questa intervista che poi è un monologo perché diciamo che spero di non avervi tediato con le mie cose e di essere stato abbastanza veloce e snello nel parlare di questo e comunque tenete sempre conto che non è facile arrivare a portare determinati argomenti e portare determinate cose Cristian sta facendo un grande lavoro sono contento ringrazio partecipo volentieri a questo The All Blood mi dimenticavo dicendo The All Blood mi è venuto in mente che sto lavorando ugualmente ad un progetto di tributo ai Blue Oster Calt che praticamente uscirà penso nel prossimo anno febbraio marzo dove facciamo una cover ma non una cover come fanno loro i Blue Oster Calt il pezzo ma elaborata Run My Totem questa cover è del pezzo alchemist sono molto contento perché sta riuscendo molto molto bene un'altra cosa da dire è che abbiamo fatto un pezzo anche per il lavoro che la Black Widow sta per dare alle stampe che è un tributo a HP Lovecraft per tutte le sue idee e noi attraverso un personaggio che è Nodens abbiamo ricreato con la musica un un percorso di Lovecraft Lovecraft ha scritto una serie di racconti che ogni gruppo tra cui Death SS tra cui il mio amico Freddy Delirio hanno interpretato a loro modo ogni pezzo ma ci sono mi sembra una decina una quindicina di artisti e gruppi che fanno questo non perdetelo perché ricordo che è molto molto bello ci sono tutta una serie di che io ho avuto la fortuna di sentire degli spezzoni qua e là molto interessanti e molto interessante allora io ragazzi vi saluto tutti vi ringrazio oltretutto vi dico penso di essere stato abbastanza esaustivo sul discorso Rano e Totem comunque se avete qualche dubbio potete andare sul sito Rano e Totem che è www.ranoetotem.com e potete andare oppure potete andare in Facebook Rano e Totem Facebook potete seguirci e avere delle delle info ogni ogni volta che noi produciamo o facciamo un concerto o qualcosa allora caro Cristian io ti ringrazio tanto sono e lo ribadisco sono felice di aver partecipato a questa tua iniziativa sarà mi accura anche dare abbastanza se non molta pubblicità al fatto ragazzi arrivederci e music on la mi accura l'unico mi accura su l'unico si l'unico di mi accura a le di l'unico di